Ma cosa sta succedendo a Roma? Ancora una volta arrivano notizie incoraggianti per il popolo romanista. Think big, pensare in grande, come amano dire gli americani. Io ho vissuto qualche mese proprio negli Stati Uniti, in California, me lo ricordo benissimo. In continuazione mi dicevano, Giano, non essere il solito pessimista tedesco, devi pensare in grande. Think big, you always have to think big, e onestamente questa proprietà della Roma americana sta pensando in grande. E perciò sono onestamente un po' impressionato per quello che sta attualmente succedendo, perciò vorrei un po' analizzare questa attuale situazione per poi parlarvi anche delle ultimissime notizie. Innanzitutto però anch'io onestamente vorrei pensare un po' più in grande, e perciò vorrei, diciamo, incoraggiarvi di seguirmi qui sul canale YouTube per aumentare un po' i follower, amici, per voi un click che vi costa veramente nulla. Per me veramente cambia la mia vita, amici, tantissimo lavoro dietro questi video, perciò con un click che a voi costa veramente nulla, mi potete veramente regalare una grandissima soddisfazione. E poi chi mi vuole veramente bene mi può anche seguire sul secondo canale YouTube, Giano Food, un tedesco assaggio di cibo italiano, dove viaggio in tutte le 20 regioni italiane per onorare il Made in Italy, per portare in alto il Made in Italy. Anche noi qui in Italia, io ormai faccio parte di voi, amici, mi sono trasferito in Italia, dobbiamo pensare in grande, dobbiamo sempre portare in alto il Made in Italy. Io provo nel mio piccolo, con i miei sforzi, di portare in alto la cucina, la tradizione, la cultura italiana con quel progetto YouTube, perciò veramente grazie di cuore a tutti coloro che lo spingono, con un'iscrizione, con un commento, siete fondamentali. Voi, voi siete veramente, diciamo, il centro di questo progetto, perciò ogni interazione è veramente meravigliosa, mi aiuta di poter portare avanti quel progetto, perciò io, amici, conto veramente su di voi. Adesso iniziamo a parlare della Roma, andiamo un po' indietro, amici. Io mi ricordo benissimo, nel passato, spesso la Roma aveva problemi di riempire lo stadio, anch'io sono stato un po' di volte allo stadio, innanzitutto mi dispiace per i tifosi romanisti, che sono un popolo molto caloroso, con tantissima passione. Il mio co-nazionale Rudy Feuilla una volta disse giocare il derby di Roma, e poi dopo giocare quello di Monaco, quando poi torni a Monaco sembra di giocare un compleanno d'asilo, cioè non è paragonabile, c'è una passione veramente assurda lì a Roma, e perciò onestamente mi è sempre un po' dispiaciuto che loro abbiano uno stadio dove c'è la pista atletica, dove devi guardare la partita con il binocolo in alcuni posti, cioè i tifosi si meritano assolutamente altro, soprattutto, e secondo me ancora peggio, è la infrastruttura. Io sono andato a vedere la finale della Coppa Italia Inter-Juventus, e dopo la partita abbiamo dovuto camminare a casa, perché non c'era un pullman, non c'era un tassi, i tassisti hanno detto noi non entriamo in quella zona perché c'è troppo caos, non c'era una metro, non c'era un tram, perciò migliaia di tifosi hanno dovuto camminare proprio a casa, e non è la prima volta che succede questo. Perciò una organizzazione, parliamo piuttosto di una disorganizzazione allucinante attorno all'Olimpico, i tifosi assolutamente meritano altro. E perciò onestamente potevo anche un po' capire, anche nei anni dove forse anche la Roma non stava giocando un calcio esaltante, che c'erano un po' questi problemi di non poter riempire lo stadio. Invece con l'arrivo di questa proprietà americana, con l'arrivo ovviamente di Jose Mourinho, grandissimo arrivo amici, forse a livello di costanza ci sono allenatori che hanno fatto meglio, e Ancelotti, Pep Guardiola, che se arrivano in una big riescono veramente a sfruttare, a valorizzare al massimo, ripeto, il potenziale di questa big e riescono a costruire qualcosa di grande. Mourinho alcune volte nelle big ha fatto un po' fatica, è stato un po' dietro alle aspettative, ma secondo me non c'è nessun allenatore al mondo che riesce a creare così tanto hype, che fa veramente pensare in big, in grande, anche in delle società un po' più piccole. Amici, ricordiamoci che Mourinho ha vinto la Champions League con il Porto, ricordiamoci che Mourinho ha vinto il Triblette con l'Inter, questo secondo me sono successi che, per come vedo io, il calcio valgono di più, come vincere la Champions League tre volte di fila, quando chiami Sinedine Sidan, stavi già un po' dietro, dentro la società, sei entrato, hai preso una squadra già super competitiva, già super forte, comunque meta rispetto anche con la roba lì, ma secondo me è sempre bello vedere un allenatore che in una società, fra virgolette, un po' più piccola riesce veramente a fare il colpo di scena, a fare veramente qualcosa di incredibile, perciò secondo me, sotto questo punto di vista, Mourinho è assolutamente il numero uno, perciò qui hanno preso l'allenatore giusto, perciò nell'ultima stagione sono veramente riusciti a riempire lo stadio, spesso anche, diciamo, in delle partite un po' meno importanti, perfino contro il Venezia, se adesso non mi sbaglio, erano in 60.000 stadio veramente completamente pieno, e per la nuova stagione adesso sono riusciti addirittura di vendere subito, attenzione, 36.000 abbonamenti, una cosa che non succedeva più da 18 anni, perciò una roba veramente impressionante, inoltre sono riusciti a vincere finalmente una Coppa internazionale, lo so è solo, fra virgolette, la Conference League, ma chi se ne frega, chi se ne frega, questa Conference League ha dato motivazione, ha dato spinta a tutti, ai giocatori, all'allenatore, Mourinho se lo è tatuata, insieme anche con l'Europa League, insieme anche con la Champions League, comunque per lui ha avuto un valore, ha pianto, queste sono state lacrime vere, e io ho amici proprio giù a Roma, a cui voglio molto molto bene, che mi hanno mandato dei video che erano da pelle d'occa, veramente da non crederci, festeggiamenti incredibili, e perciò sono assolutamente convinto che un successo di questo genere sia anche positivo per la propria età, anche loro, fidatevi, sono dei esseri umani, certamente devono essere razionali, devono pensare ai bilanci, devono pensare a creare una società, che in questo momento stanno perdendo soldi, stanno immettendo soldi, 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 in continuazione, secondo me, i Fritkin arriveranno anche a un miliardo di euro, nel passato, già adesso avevano comprato da Roma più di 200 milioni di spese, investiti altro 400 milioni, sono già arrivati a 600 milioni di euro, e non si fermano qui, però ovviamente, diciamo, l'obiettivo a lungo termine deve essere quello, ad un giorno, di avere una società che va avanti con l'autopilota, con la sostenibilità, e come arriva la sostenibilità? Con successi sul campo, se la Roma dovesse qualificarsi ogni anno per la Champions League, magari andare anche un po' avanti in Champions League, arrivano altri introiti, ricavi aumentano, i sponsor arrivano, e la società poi diventa sempre più solida, e questo secondo me deve essere l'obiettivo di una società seria, perché non ha senso pompare solo miliardi in un club, farlo vincere magari un titolo, e poi andarsene via, e perciò io vedo veramente una via di mezzo giusta, vedo una società che lavora in maniera seria, che mette tantissimi capitali, che vuole avere successi sul campo, che però ha anche questo obiettivo, l'hanno sempre detto, e lo dimostrano anche di arrivare un giorno proprio alla sostenibilità, che la Roma possa essere un club sano, perché ricordiamoci, l'ho visto in tantissimi club dove c'erano anche sciicchi, eccetera, che sono entrati, hanno speso tanto, poi non avevano più voglia del loro giocattolo, sono andati via, e quei club hanno, sono veramente caduti incredibilmente in basso, se volete potremmo anche fare qualche video su questi club, che poi sono caduto veramente in basso, perciò io qui vedo veramente un progetto serio. Andando un po' avanti amici, adesso hanno addirittura preso Paolo Di Bala, che ha subito battuto il record di Cristiano Ronaldo, la Roma ha venduto, attenzione, 535 mila maglie nelle prime 24 ore, incredibile, rispetto alle 525 mila maglie vendute nel primo giorno di Cristiano Ronaldo con la Juventus, questo significa, addirittura, hanno stabilito un nuovo record. In alcuni negozi, subito, c'era già la lista d'attesa, perché sono terminate le lettere e i numeri, perciò in teoria, secondo me, potevano vendere ancora di più, esiste già un murales a Roma per Paolo Di Bala e a me è piaciuta soprattutto anche la presentazione pazzesca di Paolo Di Bala. Io, ripeto, ho amici a Roma che mi hanno detto che hanno passato lì quasi un'intera giornata ad aspettare, anche se la presentazione alla fine erano solo una ventina di minuti, ma questo proprio vi dimostra la passione del tifo romanista, l'hype incredibile che sono riusciti a creare. Onestamente, questa presentazione aveva proprio qualcosa di italo-americano, cioè italiano, romano, dico la passione, la passione che ci ha messo tutta la gente, ma onestamente aveva anche qualcosa di americano, queste luci, questa musica, sembrava quasi un po' la NBA, sembrava quasi un po' un altro sport, cioè l'American football, non so, dove proprio riescono a creare dei eventi incredibili, dei eventi assurdi, sembrava un po' una roba così, americana, come dicevo già all'inizio video, proprio stile Think Big, è stato veramente impressionante e vi dico che ha fatto il giro del mondo. Io, che ripeto, sono tedesco, lo sapete tutti, tutti i giornali tedeschi ne hanno parlato, ma io ho un po', ovviamente, o diciamo, seguo un po' anche sempre la stampa internazionale, perfino nei paesi asiatici, dove abita la mia fidanzata, poi spero che tra poco potrà anche venire qui in maniera definitiva in Europa, però sapete che la burocrazia nell'Europa è molto molto lenta, specialmente se vuoi fare tutto in maniera legale, ci vuole tanto tanto tempo e noi ovviamente vogliamo fare tutto sempre in maniera legale, perciò ci vuole tanta tanta pazienza, comunque, perfino lei mi ha detto, ho parlato con il suo fratello in Thailandia, perfino lì hanno parlato della Roma, hanno parlato di questa cosa, le immagini sono arrivati fino in Asia, è una roba veramente impressionante, considerando soprattutto anche che la Roma non gioca la Champions, perciò secondo me Di Bala si è preso anche delle assicurazioni, cioè uno come Paolo Di Bala non è stupido, è vero che adesso non arriva delle offerte dai top club, ma forse, parlando anche di Napoli o di altri club, forse poteva trovare un club, diciamo, che almeno giocava in Champions League, questo secondo me sarebbe stato possibile con un po' di pazienza, il calciomercato appena aperto, c'è ancora tanto tanto tempo, ma secondo me Di Bala ha scelto anche la Roma per un progetto, cioè se la Roma non avesse Fritken, se la Roma non avesse Mourinho, se la Roma adesso non stesse prendendo Wijnaldum, Matic è già arrivato, cioè se la situazione non fosse questa, secondo me Di Bala sicuramente non avrebbe scelto la Roma e questo secondo me è un'altra dimostrazione che c'è un progetto serio, che c'è un progetto veramente ambizioso se uno come Paolo Di Bala per il suo ultimo contratto importante nella carriera sceglie proprio la Roma, inoltre un paio di giorni dopo, la Roma ha firmato un contratto con Adidas devastante, se non mi sbaglio a livello proprio di Maglia, di Di Brent, solamente la Juventus guadagnerà di più in Italia, perciò sotto questo punto di vista i Fritken sono anche arrivati proprio, sono anche riusciti ad arrivare nella top, nella classifica top della Serie A, ripeto, vicino alla Juventus, prima di Inter, prima di Milan e queste cose sono fondamentali nel calcio, tu devi lavorare a tutti i fronti, devi aumentare il fatturato e secondo me fosse la cosa ancora fondamentale per la Roma sarebbe ovviamente fare uno stadio, uno stadio di proprietà e io osservando questa società molto seria americana penso che sia anche il loro obiettivo perché quello l'ho visto anche a Monaco di Baviera, all'Allianza Arena, quello ti fa veramente fare il salto di qualità e come vi ho già detto anche i romanisti ma tutti i tifosi di calcio che vanno a guardare delle partite in Roma meritano qualcosa di altro con tutto rispetto per l'Olimpico stadio bello storico quando io sono entrato mi sono emozionato c'è la statua che sembra quasi di stare a Rio de Janeiro che uno vede con la luce da lontano c'è uno stadio veramente bellissimo le statue anche davanti allo stadio bellissimo storia il percorso quando uno cammina verso lo stadio è veramente meraviglioso con tutti i pini mi piace tantissimo però non basta questo per essere competitivo non basta questo soprattutto l'infrastruttura è veramente è veramente pessima non voglio mancare il rispetto amici ma quello che ho vissuto a Roma un po' in generale anche con i mezzi che proprio non funzionano mi è un po' dispiaciuto perché ripeto è la città forse più bella del mondo la città è incredibile la cultura che hanno è una città veramente straordinaria però deve migliorare sotto questo punto di vista e perciò è bello secondo me vedere dei imprenditori ambiziosi che investono in Roma che investono nella capitale italiana questo secondo me è assolutamente una notizia positiva perciò Di Bala è arrivato Matic è arrivato Vijnaldum questa è la notizia serale ad un passo anche lui sta per arrivare comunque un giocatore che ha fatto molto bene alla Liverpool giocatore di spessore internazionale allora amici se non mi sbaglio come vi ho già detto ad inizio video hanno investito oltre 600 milioni di euro nella Roma perciò in questa stagione secondo me sì tanto hype va bene tutto bello ma l'obiettivo per la Roma deve essere la Champions League cioè se investi così tanti soldi perciò non puoi andare avanti sempre così non puoi sempre fare momenti di capitali mettere sempre più soldi deve arrivare il momento dove l'investimento torna qualcosa indietro dove la squadra riesce a stare sulle proprie gambe e questo deve essere l'obiettivo e perciò quest'anno secondo me con Mourinho con Abram che è stato anche fortemente voluto da Mourinho con Paolo Di Bala con magari Vijnaldum con Matic questa squadra deve puntare sulla Champions League questo deve essere l'obiettivo per raggiungere anche la sostenibilità economica e poter fare ancora altri passi in avanti comunque è un progetto molto interessante fatemi sapere un po' la vostra opinione sotto i commenti io vi voglio tanto tanto bene amici perciò grazie di cuore a tutti coloro che mi supportano che si iscrivono a questo canale YouTube dietro a questi video ripeto c'è tanta ricerca tanto lavoro tanto amore tanta passione perciò vi mando un fortissimo abbraccio e ci vediamo presto con altri video